E anche noi vogliamo dedicare un pensiero a un grande uomo di sport, un uomo che ha seguito tante generazioni di calciatori, un uomo che è stato simbolo di sportività, di tanta passione, ha forgiato intere classi e generazioni di calciatori. Con tanta sportività non ricordiamo mai una polemica, un tono di voce alzato, una rissa a bordo campo e quindi è un uomo che nella Riviera Ionica ha dato tanto, si è speso tanto, sicuramente una grossa perdita per tutto il comprensorio. Io a calcio non ho giocato, però ricordo i miei coetanei, sono cresciuti insieme a Gigi che li prendeva con la macchina e li accompagnava in giro per la Sicilia. Ci mancherai tanto, un grosso abbraccio e un salutone. A presto, Gigi, ti accompagniamo tutti lassù in cielo. Eccolo qui il minuto di raccoglimento che osservano le squadre. Ricordiamo Gigi che si è spento all'età di 67 anni, in maniera prematura ed improvvisa e sicuramente lascia un grande volo. Lo ricordiamo nelle giovanili dell'Interionica, dell'Indipendente, del Santa Teresa, con la nuova Tauro. Insomma, ha scritto pagine di storia.